Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giro di Parole, io sono Biazzacu, Udinese Milan 3-1, parliamone. Settima sconfitta in campionato, se non sbaglio meno uno dall'Inter che ne ha fatte otto, i cugini si stanno sfidando anche in questa sfida delle sconfitte, è stata una partita dove l'Udinese è partito alla grande, subito vai a trovare il gol con Pereira dopo Samarzic che sfrutta l'errore in primis di Benasser e in secondis di Tomori che poteva evitare di farsi anticipare in quel modo, Benasser è stato superficiale, Tomori troppo pigro in quella situazione e Samarzic li ha fregati da entrambi e Pereira poi è stato bravo a sfruttare l'occasione creata da Samarzic, un bel gol, lì è stato praticamente un fulmine a Cerserino per il Milan, cioè ci hanno messo parecchio a riprendersi, perché poi l'Udinese ha sfruttato quel gol per partire bene, finché poi non c'è stato, diciamo, quell'episodio del calcio di rigore, il Milan aveva sì provato a fare qualcosina, ma niente di eccezionale, calcio di rigore diciamo che io non voglio entrare nei meriti però, molto dubbio, semplicemente perché prima del tocco di mano c'era stato il tocco di ginocchio di Biol, se non sbaglio, e in quei casi è difficile fischiare il fallo di mano, cioè capisco che vada a fermare un'occasione nitida, però la tocca prima di ginocchio, quindi per me non esiste quel fallo di mano, ma non lo so cosa avranno detto nel post-gara, nelle varie trasmissioni, ma sono abbastanza sicuro di quel che sto dicendo, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, calcio di rigore battuto da Zlatan, che sbaglia, vabbè non sbaglia perché fa una paratona a Silvestri, certo Zlatan poteva tirarlo meglio, ma è soprattutto una parata dal mio punto di vista, e lì poi sbaglia, non mi ricordo chi, dei giocatori dell'Udinese, che se non sbaglio Beto, forse sbaglio, che entra in aria prima del tiro di Ibra, va praticamente ad annullare la parata di Silvestri perché, e qui voglio rispondere a tutti quelli che magari se lo staranno chiedendo, perché il giocatore che è entrato prima in aria, prima che Ibra tirasse, poi è stato il primo ad andare a spazzare sulla respinta di Silvestri, cioè se quel giocatore non fosse arrivato primo sul pallone dopo la respinta di Silvestri, non l'avrebbero fatto ripetere, il problema è quando il giocatore anticipa l'ingresso in aria, e va pure ad intervenire prima di tutti, quindi è normale che te lo devono far ripetere, è ovvio, cioè, e sto notando che parecchi giocatori stanno facendo questo errore, non è solo l'Udinese, ne ho visti tantissimo quest'anno di rigori ripetuti, perché? Perché c'è questa foga di entrare in aria, cioè, se io fossi l'allenatore di questi giocatori, li metterei legati su una sedia in allenamento, hai il limite dell'aria, e quando farai battere il rigore, così in modo tale che non si possono, non devi entrare in aria, è inutile, non sei un giocatore inutile, se tu entri prima del tiro del calcio di rigore, sei inutile, non serve a niente là dentro, vabbè, questa è una cosa mia, è una battaglia personale, quindi ripete, Zlatan dice, vabbè, fanno un gol, ma lo tiro sotto la traversa, e così è stato, e ha fatto un gol incredibile, il rigore è bellissimo, 1-1, il Milan si sentiva già meno sollevato dal pareggio, ad un certo punto, contropiede finale dell'Udinese, che fa un'azione un po' con qualche rimpallo vinto, un po' con qualche bella giocata, dunque arriva questa palla, a Beto che anticipa tutti, e qui la difesa del Milan un'altra volta si fa anticipare, poco aggressivi, poco reattivi, e qui Beto anticipa tutti e la butta dentro, 2-1, e lì secondo me è finita la partita, perché tu ti sei sentito sollevato, l'avversario ti ha dato la batosta finale, lì già si poteva terminare, perché poi il secondo tempo, il Milan diciamo che ha controllato la gara, perché è quella che ha avuto più il pallone nel secondo tempo, lo possiamo vedere benissimo nelle statistiche, anche se non ho controllato, ma sono abbastanza sicuro, 69% nel secondo tempo, mentre nel primo c'era un 59%, bella differenza, perché l'Udinese già sta vincendo, il Milan ha provato, ma l'Udinese si è difesa bene, e gli spazi erano pochi, e poi c'è stata pure la beffa del 3-1, perché è un esimo errore difensivo per quanto mi riguarda, perché in quella situazione stavano marcando a uomo i tre difensori del Milan, e Ciao cade a terra, e si è creata la superiorità numerica, e lì è difficile difendere, poi c'è te ne manca uno, perché poi esibue dall'altra parte si è ritrovato da solo, per questo motivo qua, perché poi hanno dovuto scalare, e si crea sempre lo spazio, diciamo che a livello difensivo il Milan ha fatto una partitaccia, cioè tutti e tre gol subiti per me sono gravissimi, veramente gravi, veramente gravi, e qui sinceramente io inizierei anche a ragionarci su, cioè caro Pioli, ma non lo so se voi cosa ne pensate ragazzi, anche voi amici milanisti, ma io vedo che questo esperimento non sta funzionando, questo cambiamento radicale, come ha detto anche Maldini, per compattarsi e per dare precedenza alla difesa, piuttosto che all'attacco, diciamo che ha funzionato per un periodo, eh ma noi non ci possiamo aggrappare a questo periodo, cioè non possiamo inventarci la realtà, perché la realtà per quanto mi riguarda dice, che a parte questa vittoria col Torino, per 1 a 0, col Tottenham 1 a 0, Milan 1 a 0, Monza 1 a 0, e Atalanta 2 a 0, poi c'è stato, c'è stato un Milan che non solo non ha funzionato in difesa, ma non ha funzionato nemmeno in attacco, cioè, quindi questo, questo cercare di migliorare la fase difensiva, soprattutto dopo quella partita con il Sassuolo, che ormai è datata al primo 29 gennaio, si è avuto un netto miglioramento iniziale, perché magari si sentivano più, ma c'è stato anche un peragionamento nella fase offensiva, come si può ben vedere, anche le vittorie fatte erano per, con il corto muso, e sinceramente, non lo so quanto convenga, abbandonare i propri punti di forza, per crearne degli altri, se poi questi altri, non ti portano garanzie, perché c'è, fino a questo punto, praticamente, dopo Milan-Atalanta, uno poteva dire, e vabbè, abbiamo rinunciato un po' alla nostra forza offensiva, per diventare solidi, ma sta solidità, poi si è persa, cioè, siamo già, alla seconda sconfitta, più pareggio con la Salernitana, e il prossimo sarà la sfida contro il Napoli, cioè, se il Milano perde anche col Napoli, si ritornerebbe ad una situazione, con, tre sconfitte in quattro partite, cioè, secondo me, Pioli, potrebbe anche tornare sui suoi passi, eh, perché sinceramente, non sta più portando risultati, questo, modo di interpretare il gioco, da parte del, del Milan, perché vedo comunque, un attacco più sterile, una difesa che non è più quella di prima, perché è stato soltanto un momento, e, e comunque sono, sono grezzi, cioè, non, la manovra non è avvolgente, come lo era prima, mi ricordo un Milan, che comunque, eh, con giocate in verticale, in orizzontale, le accelerazioni, di Leao, riusciva sempre a creare qualcosa, eh, ma ci rendiamo conto che, non si riesce più a vedere quella forza offensiva, i giocatori sono gli stessi, i giocatori sono gli stessi, cioè, io non posso dare tutta la colpa a Leao, capite? Cioè, io sono d'accordo con chi dice, Leao sembra svogliato, non sta più dando come, non sta più giocando come prima, però può essere pure perché lui, sta entrando in questo loop, che, siccome salgono meno giocatori, siccome salgono meno giocatori, a supportarlo in fase offensiva, può essere pure che, si sente quasi spesato, in questa situazione, dove si sente da solo contro tutti, e deve fare, per forza lui la giocata, cioè, può darsi pure che questo modo, più prudente, da parte del Milan, stia influenzando il modo di giocare di Leao, che, secondo me, ormai bisogna, eh, pensare a qualsiasi, eventualità, sinceramente, Pioli, farebbe bene, dal mio punto di vista, a ritornare, al, alla formula vincente, che gli ha fatto vincere lo scudetto, perché quella, ha portato dei risultati, ma no dieci anni fa, un anno fa, cioè ha portato dei risultati, in termini di vittorie, consecutive, e quindi una volta, che ha raggiunto, una solidità, con quel modo di giocare, abbiamo visto, che il Milan, può fare un filotto, di vittorie, incredibile, questo stile qui, ha fallito, purtroppo, cioè, questo esperimento, per quanto mi riguarda, continuare a tirare la corda, di una corda, che ormai già si è spezzata, perché la corda, ormai si è spezzata, dopo che hai perso, contro la Fiorentina, che è palese, che poi, si è rotto qualcosa, quella solidità, non c'è più, continuare ad aspettare, ad insistere, potrebbe diventare, ancora più pericoloso, soprattutto adesso, che, i punti, iniziano a pesare, sempre di più, perché mo, chissà, questa sconfitta, quanto influenzerà, sulla Corsa Champions, vedremo domani, le altre cose faranno, ma se la Roma, dovesse vincere, la Lazio, dovesse vincere, l'Inter, dovesse vincere, questa sconfitta, potrebbe pesare, e anche tanto, va bene ragazzi, questo video, finisce qui, fatemi sapere, cosa ne pensate voi, con un commento, lasciate un like, se il video è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella, e noi ci rivediamo, in un prossimo video, viva il calcio!